Valerio Baldovin, un match che ha mostrato dei margini di miglioramento rispetto a quanto si era visto con Latina. Sì, sicuramente l'espressione del gioco è stata superiore rispetto a quello che abbiamo fatto con Latina. Nonostante il primo set abbiamo fatto troppi errori, soprattutto sulle situazioni di contraattacco, grazie anche alla pressione che danno loro ai servizi. Abbiamo dovuto attaccare diverse situazioni di palla alta, però sapevamo che era così e abbiamo un po' gestito male quelle occasioni che abbiamo avuto. Mentre nel secondo set in poi abbiamo iniziato a prendere un po' di più ritmo, abbiamo toccato più palloni a muro, abbiamo difeso parecchi palloni e abbiamo giocato in maniera un po' più intelligente nelle situazioni di contraattacco. Sì, sicuramente una prestazione migliore rispetto a quella di Latina, però come si suol dire in questi casi una rondine non fa primavera. Sappiamo che dobbiamo lavorare molto duro perché lo standard di gioco che ci attende dalla Superlega è questo e quindi dobbiamo essere sempre lì sul pezzo partita dopo partita. Giannotti analizzando la partita a fine gara ha detto un punto non l'avremmo di sicuro rubato oggi. No, no, sicuramente no. Insomma, vedendo com'è andata dal secondo set in poi si poteva anche stare di riuscire a portare Trento al quinto, però purtroppo non è andata così. Peccato, insomma, però diciamo che l'obiettivo che era quello di cambiare un po' marcia, cambiare un po' regime, è stato conseguito. Adesso viene il più difficile perché adesso si tratta di dare continuità alle prestazioni che non è una cosa facile. Ok, grazie in bocca al lupo. Prego.